Buonasera, grazie di essere qua. Io appunto mi hanno così invitato a parlare dei temi del cambiamento. A questo punto si era anche parlato della crescita, del crescere e io ho indicato questa parola creatività perché è una parola di cui mi occupo da un po' di tempo, da molto tempo in realtà. Mi occupo più della parola che della cosa, poi forse cercherò di spiegarvi anche perché. Però intanto, io era da un po' di tempo che mancavo dal circolo di lettori, dove sono venuto a fare degli incontri, delle conferenze, delle presentazioni. Ma nel frattempo ho sempre pensato, una volta che vado al circolo dei lettori devo raccontare questa cosa. E questo avviene proprio benissimo, comincio a parlare di creatività in questo modo. Cioè il rapporto tra l'autore e il lettore. Questo è un circolo di lettori, si pensa ovviamente, in maniera anche un po' banale, che il lettore sia un po' passivo, no? Cioè su questa coppia l'autore viene, ha fatto qualcosa, ha scritto un libro e racconta il suo libro ai lettori che decidono di leggere il libro. E uno dice benissimo, poi ci sono gli autori, normalmente sono anche dei lettori. I lettori, alcuni dei lettori vorrebbero diventare autori e fa parte di una dinamica abbastanza normale. Però tutto questo sarebbe molto semplice, sarebbe più semplice se il rapporto fosse tra scrittori e lettori. Perché lo scrittore scrive e il lettore legge. Ma tra lettori e autori è un po' diverso, perché il lettore legge, ma l'autore cosa fa? L'autore auta? No, cioè non esiste la parola. E allora si capisce che lo statuto è un pochettino diverso tra il lector e l'auctor. E qui bisogna fare un po' di esercizio etimologico, che è molto divertente parlare di etimologie, però a me è un po' spiace perché c'è un po' questa idea che nell'etimologia ci sia la verità della parola, la verità originaria della parola. E noi, vabbè no, questo è un discorso un po' lungo e ci porterebbe fuori, forse anche un po' spiacevole, però siamo un po' troppo, ci stiamo affezionando a quest'idea che ciò che c'era all'inizio, le radici, ci deve essere per tutto il tempo. Se una parola è stata usata dai razzisti, diventa una parola che è sempre razzista. Se una parola è stata usata in modo sessista, continua a essere sessista. Abbiamo questa idea che le parole non cambino, siano degli stigmi. Però scusate, questa è una cosa che mi rendo conto che non c'entra molto. E però appunto parlare di etimologia comunque un po' è divertente e un po' è anche significativo, ma non è significativo nel senso che appunto nell'etimologia sia consegnata la verità della parola. Cioè adesso voi, no, tornate a casa, prendete la giacca e la mettete nell'armadio e arriva uno che vi dà una botta sulla mano e dice no, sbagli, perché armadio viene da arma e quindi tu nell'armadio devi metterci la tua colt, il tuo Winchester, non ci metti la tua giacca. Dici no, sei scemo, cioè l'armadio, una volta forse voleva dire questo, adesso è il posto dove io metto la giacca. No, nessuno dovrebbe fare così. Quindi non c'è la verità della parola nell'etimologia, ma allora cosa c'è? Io quando ho un dubbio mi rivolgo a Primo Levi. Primo Levi ci ha insegnato tantissime cose meravigliose, sono tutte molto sagge e lui su questo dice se tu conosci l'origine di una parola, la usi con maggiore profondità. Cioè dai una profondità al tuo uso della parola, lui parlava di scatenare. Se tu senti le catene, no, quando dici io scateno il mio risentimento e senti che è come se liberassi i cani del tuo risentimento, stai usando la parola con maggiore profondità. E quindi appunto vi propongo di usare l'etimologia in questo senso. E l'etimologia di autore. Allora, parliamo di creatività, cambiamento, ve lo dicendo, no? Quindi la creatività dell'autore. E uno penso che l'autore è creativo. Se voi chiedete, io faccio questa prova ogni tanto in aula, da dove viene autore, la gran parte delle persone si riferirà all'idea di auto, no? L'idea di riferimento, l'autoritratto, no? L'autore è qualcuno che fa l'autobiografia, l'autofiction, diciamo adesso. C'entra niente. E' una cosa che io chiamo egocentrismo etimologico, che vediamo anche nella parola autodaffè. L'autodaffè, Elia Scanetti, dicendo, però lo prendiamo come il momento in cui uno si autodenuncia, autodenuncia. Invece no, autodaffè vuol dire atto di fede ed è l'eufemismo con cui l'inquisizione portoghese mascherava le condanne anche a morte per eresia. Non c'è l'auto, non c'è il sé dentro all'autodaffè. E non c'è il sé neanche nella nozione di autore. Autore viene da un verbo latino che è lo stesso verbo che troviamo in parole carine come aumento, come augurio. Ed è augere. Questo verbo significa far crescere. Non è il verbo di essere in auge. Sembra questa cosa ma non lo è. Però significa far crescere. Ed è molto bello perché il verbo leggere, in realtà leggere, in origine significava raccogliere. E quindi abbiamo l'autore che fa crescere e il lettore che raccoglie. Della cultura o cultura, no? Un'idea, non so se abbia senso questo circuito, però così, una suggestione. Ma invece perché l'autore, l'autore era uno che faceva crescere? Cosa faceva crescere? C'era il lector, lo scriptor. Lo scriptor era quello che copiava i manoscritti. L'autore aveva il permesso di farli crescere. Cioè di aggiungere qualcosa a ciò che copiava. Quello era l'autore. Quelli erano tempi in cui dire questo non ha detto niente di nuovo era un complimento. Non era una critica. Era un complimento. Perché si riteneva che tutto ciò che uno poteva dire doveva avere un riscontro in ciò che era già stato detto. Cioè la Bibbia. E poi gli autori classici, no? Aristotele e via dicendo. Se uno doveva scrivere qualcosa, doveva cominciare dicendo come dice il libro di Giobbe e incominciava a dire questo e poi trovava il modo per dire la cosa sua. L'idea di torcere il naso all'autorità, l'idea di Blaise Pascal, di torcere il naso all'autorità. Veniva da lì. Cioè tu dovevi comunque... Se uno diceva qualcosa che era completamente nuovo, che non aveva nessun riscontro in un testo già noto, allora quella cosa non aveva valore. Questo era un modo che noi non riconosciamo. A noi stupisce questa... Veniamo stupiti da questa cosa. Però era uno dei modi in cui valorizzavamo i testi. Un testo a valore se si richiama a un testo precedente. Pensate, no? Come possa suonare strano nella nostra società. Perché? Perché a un certo punto è intervenuta una cosa che abbiamo chiamato modernità. Il moderno, anche lì come parola, modo da cui moderno voleva dire ora, orora in questo momento aveva un rapporto anche con odierno che vuol dire oggi e non aveva un'opposizione con antico. Non era... Questa è intervenuta dopo. C'è stato a un certo punto l'umanità ha deciso che c'era qualcosa che era l'antico e qualcosa che era il moderno. Come facciamo adesso le cose? E questa cosa è molto legata proprio all'idea di novità. Sto continuamente, non sto facendo altro che parlare di creatività, che è il tema che mi sono dato. C'è un punto, sapete, la parola artista. La parola artista in lingua italiana non sono le altre, però in italiano risale a Dante. La fine, gli ultimi canti della commedia, quelli che sono stati scoperti postumi dopo la morte di Dante. Lui parla di artista. E poi invece c'è prima nel purgatorio c'è un punto in cui Dante, una cornice del purgatorio, sta aspettando il tornello di essere fatto passare e si accorge che ci sono queste decorazioni che sono meravigliose, dei bassorilievi meravigliosi che raccontano storie. E lui a un certo punto capisce queste cose le ha fatte Dio direttamente. Le ha fatte Dio. E in quel momento lui usa una parafrasi per dire Dio, una parafrasi meravigliosa che dice perché Dio è onnipotente ma lui dice qualcosa che Dio non può fare. Colui che mai non vide cosa nuova. Cioè Dio non ha mai visto qualcosa di nuovo perché lui è fuori dal tempo. Quindi non c'è nulla che gli possa capitare di nuovo. Non c'è nulla che l'uomo o chiunque altro possa inventare di nuovo davanti a lui. Ed è colui che mai non vide cosa nuova produsse questo visibile parlare. Cioè ha prodotto questa cosa che noi vediamo e che ci parla. Perché in realtà la vera altezza dell'arte era riuscire a unire dei sensi diversi. Era la sinestesia riuscire a parlare tramite qualcosa che si vede. E c'è però questo tema della novità. Poi Dante anche il poeta della vita nuova aveva incominciato a capire che c'era un problema sulla questione di ciò che è nuovo che avremmo comunque dovuto tematizzare questa cosa della novità e ci si avviava alla modernità. In realtà voi potete definire la modernità l'era moderna la grande frattura il grande cambiamento appunto visto che dobbiamo parlare di cambiamenti che si è prodotto proprio su questo proprio su questa idea a un certo punto nasce l'idea del nuovo nasce il nuovo modo di vedere cioè la modernità è definita da che cosa dall'esplorazione no dal girare il mondo dall'esplorare il mondo cioè la scienza guardare il cielo con dei cannocchiali e non con diciamo le idee tramite il cannocchiale delle idee scolastiche della e della teologia e quindi cambiare il punto di vista e lì incomincia un'idea di nuovo non è di questo che vi voglio parlare ma se volete poi ne parliamo anche un'idea di nuovo che si afferma e che nei secoli produce una continua valorizzazione positiva di ciò che è nuovo faccio un salto un salto molto lungo io mi ricordo della prima volta che ho sentito qualcuno dire ah ma questo è vecchio nel senso di non si può più farlo e alla fine degli anni 90 era una redazione di una trasmissione televisiva a un certo punto il nuovo non lo il vecchio il non nuovo non lo voleva più nessuno Michele Serra aveva fatto non so se qualcuno di voi forse si ricorderà quella raccolta di racconti intitolata il nuovo che avanza che era un modo di dire dell'epoca io non ho mai avuto il coraggio di chiedere a Michele che ho conosciuto non ho mai avuto il coraggio di dire ma tu eri serio quando dicevi il nuovo che avanza o era una cosa ironico nel confronto di questa idea di questa mitologia del nuovo perché allora sembrava che proprio qualsiasi cosa fosse nuova uscivamo sappiamo anche politicamente da un periodo che da un lungo periodo che sembrava molto fermo e sembrava che il nuovo fosse l'unica promessa possibile in quanto nuovo e questo comunque ha corrisposto a una idea che appunto è cresciuta diciamolo francamente è cresciuta assieme al consumismo all'idea che appunto appena una cosa non funziona la butti via e ne prendi una nuova che devi rinnovare l'idea delle generazioni che una volta erano legate a noi alle persone adesso sono le generazioni degli iPhone del computer di nuova generazione sono gli oggetti che stabiliscono anche la nostra età per cui uno viene valutato a seconda di qual è la dotazione tecnologica su cui è riuscito ad aggiornarsi e uno è arrivato fino a un certo punto e anche i ragazzi sono così ma è ovvio uno che è nato quando c'era già il Game Boy è diverso da uno che sono proprio cose che probabilmente influiscono anche sulle competenze cognitive delle persone e in tutto questo ci siamo innamorati del concetto di creatività e che cos'è la creatività? ora se voi andate a vedere anche così i tanti manuali di creatività che ci sono vi parlano di cose pensiero laterale sempre cose leggermente misteriose che non si capisce benissimo cosa cosa si possa intendere con quelle cose ma con un'enfasi in cui tutto è positivo e però tutti vi dicono la creatività non si può definire è qualcosa che si sa quando c'è però non si può definirla ed è un problema cioè per me studiare qualcosa che non di cui non posso dare la definizione per me è proprio deontologicamente un problema i miei studenti voglio dire la creatività è questo e allora ho incominciato a studiare visto che appunto c'è questo buco ho incominciato a studiare tutte le volte in cui si sente parlare di creatività tutti i contesti in cui ricorre la parola creatività è chiaro che la parola creatività il massimo di precisione è definirla come la propensione a fare qualcosa di nuovo ma qualcosa cosa e qui ti si rende conto che a differenza di altre parole l'estro il genio la creatività serve a fare tutto cioè non c'è una singola attività umana che non possa essere definita in qualche modo creativa che non possa avere una versione creativa c'è qualcuno che ha preparato questo microfono e l'ha fatto come si fa normalmente e se l'avesse messo poteva farlo in un modo in cui avessi detto ma tu sei un artista per preparare i microfoni sei un microfonista creativo veramente qualsiasi cosa può generare un supplemento un surplus qualcosa che c'è in più di dedizione di inventiva di indefinibile ma che comunque noi riteniamo creativo e quindi se se uno va a vedere tutti i contesti in cui si può parlare di creatività si accorge che sono tantissimi e che si radunano in la mia immagine è quella di una piramide in cui in cima cioè nel punto che si rapporta con l'alto dei cieli con la sede metafisica ma anche il punto in cui ci sta meno gente il punto più esclusivo è l'arte in cui appunto si pensa che c'è una forma di creazione di qualcosa di nuovo poi scendendo c'è un livello che è il livello del cognitivo cioè dell'avere delle idee innovative il livello dell'invenzione il livello della storia della scienza i grandi salti scientifici poi c'è un livello un po' più grande un po' più vasto che è il livello tecnologico cioè noi riteniamo creativo non più soltanto uno che appunto fa un'opera d'arte meravigliosa o uno che ha un'idea fantastica ma l'inventore e qui ovviamente c'è l'esempio di Steve Jobs non mi ricordo mai quando è morto Steve Jobs primi anni dieci mi pare no? quando è morto Steve Jobs era come quando è morto John Lennon cioè si vedeva lui che faceva queste presentazioni che erano molto teatrali ve lo ricordate tutto vestito di scuro su un grande un grande palco e teneva in mano questi questi oggetti tutti un po' simili al al monolite di 2001 di Sare nello Spazio no? in piccolo e che li spiegava con grandissima sapienza e e poi tutti che ripetevano il suo slogan no? cioè si diceva avevano uno slogan che era stay hungry stay foolish stay hungry no? restate mad non mi ricordo forse restate affamati ed era proprio come un un riff che veniva ripetuto nei telegiornali dappertutto e uno dice sì è un po' come satisfaction e poi ci pensi vuol dire anche la stessa cosa I can get no satisfaction cioè state non non siate mai soddisfatti quindi abbiamo mitizzato la figura di uno che inventava oggetti tecnologici prima non succedeva non era mai successo in precedenza questo vuol dire qualcosa quando le persone affidano scelgono una personalità del genere a cui affidare anche un sapere un po' un po' sapienziale diciamocelo chiaro e d'altra parte il c'è un controeroe di Steve Jobs che si chiamava Steve Balmer non so se ve lo ricordate Steve Balmer nel 2000 Bill Gates decide di uscire dal da tutte le cariche operative di Microsoft era diventato strarico e ha pensato vabbè ora e ha messo lì un suo collaboratore Steve Balmer mi pare sia presidente che amministratore delegato di Microsoft e lui nel 2011 12 insomma una dozzina di anni dopo si è dimesso e quando si è dimesso la Repubblica il giornale La Repubblica ha commentato ha fatto commentare questa cosa a Denis De Kerkhoff che è un mediologo l'erede di Marshall McLuhan cioè non l'ha fatto commentare a un tecnologo a un economista a un finanziere a un informatico l'ha fatto commentare a uno esperto di comunicazione e questo in questa intervista ha detto era un bravissimo manager Balmer ma si è dovuto dimettere ha fatto bene a dimettersi perché non aveva creatività e non ha capito che più che l'ingegneria vale il design che uno dice aspetta un attimo stiamo parlando di computer smartphone cioè oggetti di tantissima ingegneria come fai a dire che conta di più il design cioè un oggetto deve essere più bello più maneggevole rispetto a come funziona e vedete come lì appunto questa idea di creatività è andata anche proprio a erodere dei valori che sono dei valori finanziari dei valori economici valori appunto rappresentati in borsa in cui appunto un manager in questa intervista per me è sconcertante ma sono l'unico che si è sconcertato per questa intervista dicevano nell'intervista dicevano sì vabbè lui ha fatto ottimi fatturati i bilanci sono tutti a posto è aumentata l'occupazione ma non ha considerato la creatività e lì vi accorgete che appunto la creatività prende un valore enorme e d'altra parte nella teoria di Schuppeter dei valori economici all'inizio del novecento non si parla di creatività perché il termine è nato dopo ma si dice che l'innovazione ha un valore economico diretto cioè voi dovete innovare un mio spiritoso amico mi ha raccontato che fuori dalla sede storica della Philips non so neanche dove non vado mai a controllare Hamburgo ma mi fido così tanto di lui che c'è la statua di una persona di un uomo ovviamente maschio e non è quello che ha inventato non è il signor Philips non è quello che ha inventato la lampadina ma è quello che ha inventato il filo di Tuxeno che si rompe perché questi tedeschi inizialmente hanno fatto delle lampadine immortali che non si rompevano mai che ovviamente sono anti economiche e a un certo punto se ne sono accorti hanno detto no dobbiamo fare in modo che si rompano e quello che ha inventato il filo che si rompe e quindi ha costretto tutti a ricominciare a rinnovare la propria dotazione è stato ritenuto meritevole di una di un monumento e allora vedete che appunto la creatività nasce dalla volontà di fare qualcosa di nuovo da questa valorizzazione sempre della cosa nuova valorizzazione che non è sempre stato così e d'altra parte io dico sempre una volta c'era il progresso ha iniziato a prenderlo in giro Giacomo Leopardi quindi voglio dire abbiamo fatto autocritica sull'idea di progresso tutte le volte che si è potuto farla è stata una cosa che ha portato ma aveva un'idea comunque era volto al dopo era volto al futuro il progresso c'era un'idea di una meta qualcosa da raggiungere qualcosa magari di demente qualcosa che si è dimostrato criminogeno no? siamo d'accordissimo su questo ma comunque c'era questa idea l'idea a cui tutti siamo chi più chi meno proni oggi che è l'idea di innovazione se ci pensate è rivolta indietro per fare innovazione no? uno arriva qui al no faccio un esempio di veramente di utopia nera arriva al ciclo dei lettori e dice no 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 qui bisogna cambiare tutti cos'è questi candelabri sto pianoforte no? andiamo giù a tutti cioè e fa innovazione ma non è mica detto che sia meglio per fare innovazione basta fare qualcosa di diverso da quello che si è fatto prima l'innovazione guarda indietro non guarda avanti non guarda dove si sta andando e quindi forse se uno se uno appunto insegna come capita di fare a me o insomma parla di questi temi come il cambiamento forse un'occhiata critica sul fatto che il cambiamento non è un valore in sé ci sono delle cose che non vanno cambiate che funzionano così delle cose banali io mi spendo per una rivolutazione del termine banale che è un demone per tutti nessuno vorrebbe essere banale ma dico ma ci sono delle cose banali che continuano a funzionare benissimo questa continua valorizzazione a critica del nuovo secondo me appunto è abbastanza pericolosa e questo è un problema della parola creatività che già non sappiamo definire se non in maniera un po' vaga come propensione a fare qualcosa di nuovo a produrre qualcosa di nuovo ma poi proprio la parola nuovo anche è una parola molto problematica io la dichiaro nessuno mi ha ancora smentito ma appunto forse è un caso però la parola più ambigua della lingua italiana perché non soltanto cambia significato a seconda del punto in cui voi la mettete nella frase ma anche il significato opposto tra poche settimane ci augureremo magari lo faremo già oggi perché forse non ci vediamo più ma buon anno nuovo e ci sarà sempre qualcuno tanto più in questi ultimi due anni che dice sì speriamo che sia davvero un anno nuovo e non soltanto un nuovo anno perché a seconda di dove mettete nuovo no se dite nuovo anno è semplicemente la ripetizione di qualcosa che abbiamo già visto quindi è una parola no che se voi la mettete prima può dire assicuramente assolutamente può significare vecchio addirittura può significare il il contrario di quello che vorrebbe e lì appunto siamo nel al circolo dei lettori io a un certo punto studiando queste cose mi sono imbattuto in un bellissimo saggio in un libro che prendeva nome da uno dei suoi capitoli una raccolta di di saggi di Martin Amis il grande scrittore inglese ora americano e poi leggendolo ho scoperto che questo saggio che si trova la la lotta contro i cliché la guerra contro i cliché the war against cliché era una prefazione una lunga un saggio introduttivo all'Ulysses di Joyce di cui è uscita un'edizione meravigliosa con testo a fronte prima edizione mondiale con testo a fronte e in questo saggio Martin Amis diceva ma vedete che tipo era Joyce non ha scritto molte opere tra le sue opere principali le sue opere principali sono quattro la prima i Dubliners gente di Dublino sono una raccolta di racconti che tutto sommato funzionano come tutte le raccolte i racconti poi ha scritto un romanzo D'Edalus il ritratto dell'artista della giovane che è un romanzo un po' strano rispetto al genere dei romanzi però ancora ancora queste sono due valutazioni che qualcuno inverte però lui la pensa così poi ha scritto l'Ulysses l'Ulysses è una grande un romanzo fortemente innovativo rispetto all'uso agli usi normali della lingua inglese e poi è arrivato a fare il Finegas Wake che lì vabbè cioè una cosa completamente fuori di testa io ho pensato leggendo questi quattro gradini che Martin Ames ha disegnato così per quella cosa specifica forse hanno un significato più profondo che noi possiamo trovare un po' dappertutto appunto quando noi abbiamo il nuovo che è la nuova apparizione del vecchio no? è una è una ripetizione di qualcosa che sappiamo già è la produzione in serie noi abbiamo un nuovo che in realtà è appunto una una ripetizione un nuovo come occorrenza voi potete cioè il famoso verso di Gerda Stein no? rosa è rosa è rosa è rosa la rosa è una rosa è una rosa è una rosa quanti sostantivi ci sono in questo verso? voi potete rispondere quattro perché rosa 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 oppure potete rispondere uno perché è un sostantivo ripetuto quattro volte e quindi avete il nuovo per occorrenza la la nuova apparizione di qualcosa che conoscevate già che non è nuovo è vecchio poi avete la variazione come il il dedalus è ritratto dall'artista da giovane è una variazione sul genere qualcosa che cambia un po' ma non va a toccare la struttura poi avete l'ulisse che invece tocca la struttura e come cioè chiacchieravo con un critico che dice ma sai io divido gli scrittori tra quelli che fanno finta che Joyce non sia mai esistito e quelli che invece tengono conto del fatto che Joyce e l'ulisse sia stato scritto quindi abbiamo un nuovo per riconfigurazione che riconfigura quello su cui agisce e poi abbiamo la rivoluzione abbiamo appunto Phoenix Wake il romanzo che rivoluziona qualcosa che forse è la lingua inglese o chi lo sa è basato sulla lingua inglese però fa qualcosa di veramente totalmente inedito vedete che appunto quando noi diciamo nuovo diciamo delle cose che possono essere molto diverse l'una dall'altra e allora quando è che uno è detto creativo uno è detto creativo quando fa qualcosa di nuovo o fa qualcosa che sembra nuovo perché c'è anche se voi fate qualcosa che è nuovo ma non sembra nuovo non verrete mai detti creativi però sappiamo che apparire non è essere quindi a volte invece conviene imparare a sembrare nuovi e a quel punto metà del lavoro è già fatto e e qui allora forse scatta la grande differenza io appunto ne parlo perché io sono neutro a me piacciono tante cose vecchie e so che a tutti piacciono tante cose vecchie ma magari non lo dicono magari non non lo ritengono adeguato per tanti motivi tanti motivi che hanno un ombrello che si chiama consumismo sotto cui tutti questi motivi possono viaggiare ma non c'è niente male a tutti piace indossare qualcosa di nuovo cioè è la vita che stiamo che stiamo facendo che stiamo conducendo e questa e non c'è nessun moralismo da metterci però dove appunto il nuovo prende un un valore economico dove prende un valore esistenziale perché le persone appunto vogliono sentirsi persone non banali e non basta dire guarda che se tutti desiderano essere creativi se tutti desiderano distinguersi dagli altri vuol dire che questo desiderio in sé è banale non basta questo a consolare allora forse bisogna dare un criterio e c'è questo fatto io insegno una materia un po' desueta ormai che si chiama semiotica in semiotica abbiamo una teoria della azione no? quando noi facciamo qualcosa c'è sempre ci sono sempre due livelli c'è sempre qualcuno che ce lo fa fare magari siamo noi stessi noi facciamo qualcosa perché siamo spinti da appunto abbiamo ricevuto un mandato o ci siamo dati un mandato per fare questa cosa ci prepariamo a farla c'è una prima fase che è questa fase del mandato che è il re che dice al cavaliere guarda che ho la figlia che è stata rapita dal drago valla a liberare se la liberi te la sposi no? queste sono poi le trame semplicissime che ci mostrano come funzionano poi tante altre cose c'è questa fase del mandato poi c'è la fase in cui uno accetta il mandato e dice beh sì devo andare a liberare la principessa ho bisogno di un cavallo ho bisogno di una spada ho bisogno del filtro magico per diventare invisibile e così via si procura questa è la fase della competenza poi c'è il momento che normalmente è nullo anche nei film d'azione il momento dell'azione molto spesso sono cinque minuti tutto il resto invece è la preparazione tutti i problemi che avvengono che è il momento appunto della performanza in cui il cavaliere uccide il drago e poi c'è il momento che chiamiamo della sanzione adesso noi per sanzione intendiamo la multa qualcosa di negativo però invece la sanzione è proprio il giudizio su quello che uno ha fatto e l'hai fatto soltanto quando c'è qualcuno che ti dice che tu l'hai fatto è quello è quella la questione quando noi facciamo qualcosa ci diciamo magari a noi stessi che dobbiamo farlo ci prepariamo lo facciamo ma poi tutto si completa quando noi stessi siamo bravo hai fatto così e così funziona anche per il creativo voi creativo nel modo in cui è fatta la parola è chiaramente una propensione no? appunto la propensione a fare qualcosa di nuovo ma se voi avete soltanto la propensione nessuno vi dirà se sei un creativo no? uno è volitivo perché vuole fare qualcosa eccetera 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 creativo perché crea qualcosa sì ma ci vuole che avvenga l'azione e ci vuole qualcuno che dice ah ma tu allora sei un creativo è sempre una sanzione che viene dagli altri e qui appunto quando in pubblicità per esempio no? in pubblicità c'è proprio una figura professionale che è la figura del creativo la figura del del copywriter che fa il lavoro linguistico dell'art director che fa invece il lavoro grafico e che inventano le cose però tu puoi avere avuto una buona idea poi devi continuare ad avere delle buone idee se diventi se creativo diventa un sostantivo diventa addirittura una qualifica professionale vuol dire che tu stai vendendo la tua capacità di avere sempre delle nuove idee e queste nuove idee possono essere anche poi un po' ripetitive possono essere diventa anche un problema tu sei un creativo devi continuare pensiamo quanti comici conosciamo ognuno di noi avrà le sue preferenze in campo comico e tanti comici che 15 anni fa ci divertivano adesso non ci divertono più perché ripetono dei moduli perché stanno cercando di rinnovare la loro creatività e allora la cosa maligna della creatività è questo fatto che non è soltanto l'incendio il fatto di avere un'idea che determina la creatività è il fatto di continuare ad avere idee a quell'altezza quindi c'è una iteratività bisogna ripetere la performance più e più volte e allora poi a un certo punto il creativo che ripete se stesso non è più creativo e questa è la fine triste ma per nostra fortuna non c'è soltanto questa le storie ci raccontano che appunto quando il cavaliere libera la principessa va dal re e gli dice ho liberato la principessa e il re dice ok adesso tu la sposi cioè puoi sposarla diventi principe cioè alla fine di un di un percorso narrativo chi ha compiuto la performance cambia statuto nelle nostre vite quando ci scriviamo un corso di laurea e ci laureiamo diventiamo dottori e poi c'è il corretto terribile però abbiamo cambiato statuto anche legalmente quando costruiamo un percorso di trasformazione quando trasformiamo qualcosa stiamo anche trasformando noi stessi ed è questo il punto molti ambiscono appunto alla alla qualifica di creativo in sé ma creativo in sé non vuol dire nulla la cosa e non più la parola incomincia ad avere un senso forte se nell'aver fatto qualcosa di nuovo che può essere un'invenzione che cambia la storia dell'umanità ma può essere anche qualcosa che cambia la nostra vita quotidiana sentiamo di avere cambiato qualcosa di noi stessi non c'è un'idea di iteratività di continuare a ripetere un colpo come la mossa della ballerina dell'avan spettacolo che fa la mossa e ogni volta eccita una platea ma se invece noi leghiamo la nostra azione di cambiamento al cambiamento di noi stessi allora a quel punto stiamo uscendo da qualcosa che studiando è inevitabile vi assicuro chiamare mitologia della creatività e stiamo entrando in una in una dimensione diciamo di consapevolezza che il mondo va come va la modernità in cui era importante appunto staccarsi dall'autorità inventare qualcosa di nuovo a tutte le sue contraddizioni ma noi sulle cose che non vanno ci applichiamo perché sappiamo che cambiando quelle cose cambiamo anche la nostra visione di noi stessi e questo almeno per me è qualcosa che mi riconcilia con un'idea quella di creatività che a volte mi pare veramente un po' un po' troppo mercantile un po' troppo mitologica se arriva a voler dire questo allora arriva anche a interessarmi grazie grazie a вас a costa Grazie.